E salve a tutti i PC Guerriani e bentornati in questo nuovissimo video delle basi di Escape from Tarkov Nello scorso episodio vi ho detto che avrei fatto che ogni... cioè questo episodio avrei mostrato le armature Le varie differenze e perché una armatura è meglio dell'altra anche se è dello stesso livello Però alcuni, anzi in diversi, hanno detto ma cos'è che devo vendere, come faccio a capire cosa vendere, a chi lo vendo Allora ho detto ma forse è più importante riuscire a capire che cosa vendere perché inizialmente vi servono soldi E quindi poi magari più avanti poi procediamo con le armature nei prossimi video Quindi oggi gestiamo le vendite, ciò significa che cosa dobbiamo vendere, cosa tenere, capire quindi che cosa luttare, come luttare Sostanzialmente ogni slot deve valere qualcosa Ogni slot deve avere il maggior valore possibile per poter avere un profitto migliore Quindi qui ho comprato un po' di armi per mostrarvi come faccio io, qual è il mio metodo che da questa patch sto utilizzando E che mi sta facendo fare un sacco di soldi Allora, iniziamo Io, cosa che vi consiglio di fare, mi sono lasciato uno spazio sopra dove trasferisco tutte le cose qua sopra Tutte le cose che io devo vendere e che non mi servono Quindi ho le armi, ho questa armatura che ormai sono a livello avanzato, non mi serve, la posso vendere o regalare a qualcuno Poi, più giù vado, ho, vabbè, tutte le cose, qua ci metto magari le cose che voglio tenere, quello che mi interessa perché magari ho degli scambi utili Poi più sotto ho altre cose come armature eccetera Quindi, se voi avete la standard edition magari lasciate un slot un po' più piccino, però comunque vi consiglio comunque di farlo come un mio amico sta già facendo Allora, voi le armi le dovete vendere quasi tutte Quindi magari avete uno zaino piuttosto capiente che vi ci può entrare un'arma o qualche armatura eccetera Allora, le armature, se è un'armatura veramente buona prendetela Perché le armature costano veramente tanto, la maggior parte di quelle magari un po' più di valore costano veramente il culo perché vanno scambiate adesso Quindi, armature, le armature forti, se ne avete bisogno, quelle le tenete Però vi consiglio magari di tenerne una o due, dipende se magari una run dove volete fare soldi o loot Quindi io praticamente vado sempre a fare run per fare soldi attualmente Quindi che cosa faccio? Mi porto, io attualmente mi porto il blackjack Me lo riempio di armi, mi metto anche l'arma sulla schiena E poi in slot ci metto mod o cose eccetera Come posso far valorizzare ogni singolo slot? Ad esempio troviamo una mod, la prendiamo perché magari un mirino lo possiamo rivendere a 15.000 15.000 rubli, avete 3 mirini, sono già 45.000 rubli Mippateli via Quindi, avete un saiga Il saiga magari spesso dagli scavolo lo trovate in questo modo, con questa rail Quindi voi ci potete mettere grip, ci potete mettere flash, ci potete mettere mirini Quindi, se voi trovate mirini, continuate a buttarceli sopra Finché non potete, cioè mirini, flash, grip, qualsiasi cosa voi troviate Provate a buttarceli sopra fino a che non potete buttarci più nulla E lì già avete fatto valorizzare un bello slot Perché potete fare tasto destro, fold Avete questo poco spazio occupato Ma magari è pieno di roba, quindi vale tanto Magari con tutte le mod eccetera, qui avete 100.000 rubli di roba Poi ho preso anche un B11 per mostrarvi cosa potete fare anche con questo Perché già questo vale un qualcosina Vediamo, magari... Vale un 3.479 rubli Ma voi ci potete mettere un grip E ci potete mettere anche due flashlight Cioè laser, flashlight, quello che è Quindi magari questo, anche questo può valere sui 60.000 Ed è uno slot da 60.000 Se magari trovate anche qui grip, flash o laser E quindi prendete e ci buttate tutta sta roba dentro Uguale come il Saiga Finché non potete più metterci nulla Non ci mettete più nulla, insomma Voi continuate fino a che riuscite Quindi il mio consiglio è sempre quello di luttare più armi possibili dagli scav Qui stiamo parlando che cosa tenere e che cosa vendere E quindi come fare... è un modo per fare soldi Però magari voi dite Ma se trovo magari un M4 ultramoddato Che cosa faccio? Quello sta a voi Io vendo sempre tutto Non mi interessa perché io sono pieno di armi E bla 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 Vedete no? Sono pieno di armi Alcune già moddate, alcune magari no Eccetera Però perché faccio così? Il mio consiglio dopo che voi avete luttato tutto quanto Vi siete presi tutte le armi Avete massimizzato il vostro valore delle cose Prendete nel vostro spazzettino delle cose da vendere E fate disassemble su tutto quanto Perché questo? Se io voglio fare più soldi Devo ovviamente sapere a chi vendere Se volete fare dollari Vendete a P-Skipper Se volete fare rubli Una volta che voi avete disassemblato tutto quanto Vi dovete gestrare tra Skier e Mechanic Quindi andate da Skier Sell E vendete tutto quello che potete Tutto quello che potete lo vendete a Skier Perché lui alcuni pezzi Cioè la maggior Sì vabbè diciamo Tutti i pezzi ve li paga Quelli che lui compra Ve li paga di più rispetto agli altri Quindi gli vendete tutto quello che potete Lo vendete a lui Uguale le armature Però Skier le armature Come Ragman Le compra Se sono a un certo Certo livello Di durabilità Quindi magari a sotto la metà Non ve le compra Però magari potete ripararla La riparate da Prapore La vendete a Skier Magari ci guadagnate un qualcosina Però se non potete Magari è già proprio messa male La vendete a Fence Però Zaini Arme cose Tutto quello che potete Vendetelo a Skier Skier vi paga di più Anche le cose che vende Ragman Quindi gli si vende tutto Poi andiamo da Mechanic E vendiamo tutto il resto Che noi Gli possiamo vendere Quindi sostanzialmente Tutto quanto Poi tipo Sigarette Oggetti Di Di questo tipo Ve le compra la terapista Quindi magari li vendete alla terapista Però ovviamente dovete Gestirvela anche col Flea Market Ad esempio Vediamo la Paracord La Paracord La terapista Ve la compra 16.875 Rubli Ma se faccio a tasto destro Filter by item Vado nella rotellina in altro Remove barating offers In modo che mi mostrate Le cose Metto che dal prezzo Dal più basso Al più alto Vale 150 E già sono 134.000 Rubli in più Ma La potete vedere anche A 188.000 La vendete comunque Quindi sono già Quasi 200.000 Rubli in più Di quanto Vale dalla terapista Quindi Per tante Per tanti di questi oggetti Ad esempio Lo Screwnut Mi sembra vale all'intorno Un 20.000 Nel Flea Market Ma ve la paga 727 La terapista Quindi Controllate sempre Se Le cose Valgono di più Nel Flea Market Rispetto che a venderle Alla terapista Di questi oggetti Qua Quindi Ad esempio La Magbox Ok Io posso craftare La Magbox Nel mio head out La Magbox Nel Flea Market La si vende A 318.000 Rubli La terapista Me la paga uguale È meglio vendere Alla terapista Perché Perché se voi La mettete a vendere Nel Flea Market Avete delle tasse Da pagare Quindi non ci guadagnate Magari pagate 30.000 Di tasse E quindi Non guadagnate Quei 318.000 Ma invece La vendete alla terapista Non avete nessuna tassa E Ci guadagnate Quello Flashlight grip O qualsiasi mod Riempitele Se trovate ovviamente Delle mod Il più possibile Quindi trovate Come prima Un Saiga Dove ci potete mettere Flashlight Bene Buttateci tutte le flashlight Trovate Quel gripino piccolino Dove potete metterci Flashlight e grip Bene A posto Prendete E lo riempite Di quello che potete Uguale con tutte le armi Che hanno Quella roba lì Però Se Volete Fare soldi Sicuramente Dovete Prendere solo le armi Perché le armature Le utilizzate Io se trovo Delle armature Le prendo Perché le utilizzo Ad esempio La VS La VS È gigante Magari Ammazziamo la scorta E troviamo la VS Addosso C'è uno slot gigante Però abbiamo già Un'armatura Che cosa facciamo Magari Non so Abbiamo uno zaino Un po' piccolo Comunque Lo mettiamo Magari abbiamo Uno zaino Che è grande Qui Quanto mostro Anzi Faccio una cosa Ok Magari abbiamo Un berkut Che è uguale allo scavbp Prendiamo E mettiamo la VS Dentro E noi abbiamo già Le nostre cose Magari abbiamo già Un tactical rig Grande Un'armatura Prendiamo la VS Ce lo mettiamo Nello zaino E poi magari Prendiamo un'arma La foldiamo La mettiamo qui dentro Prendiamo un'altra arma E ce la mettiamo Sulla schiena E dentro la VS Voi ci potete mettere Due ilmetti Un sacco di oggetti Piccoli Oggetti da due E anche qui Voi potete Migliorare un sacco La vostra Insomma Il vostro guadagno Perché Voi avete È come se fosse Un altro zaino Perché ha 23 Di container size Mentre il berkut Ha 20 Quindi è come se fosse Più grande Dello zaino È come se voi Aveste un altro zaino Dentro Quindi ci mettete Dentro Tutto quello Che potete Sempre per guadagnare Il massimo Quindi tutte le mod Magari Qualche munizioni Che vale Qualche Ifac Che anche quello Vale ma lo utilizzate Ve la dovete Giustare sempre voi In base a quello Che voi volete fare Poi Se voi Magari Dite Si ok Cazzo Però Ho luttato Non so Una cappa Super moddato Lo vorrei utilizzare Si potete farlo Ma se voi Magari Lo disassemblate E vendete Come vi ho fatto vedere Io faccio sempre così Non mi interessa Avere quelle cose Che cosa faccio Disassemblo Vendo tutto E magari Mi continui i miei raid Però magari Alcune armi Che mi piacciono E so che tanto Le andrò ad usare Me le tengo Ad esempio E mi son tenuto A questo R-Sass Ho smontato Il silenziatore Di un M700 Che avevo Che avevo preso Da uno scav E ce l'ho messo sopra Però Che cosa faccio io Magari L'R-Sass So che lo utilizzo E mi faccio il preset Quindi Edit preset Me lo moddo Come voglio Quindi magari Una volta che ho finito Di modarlo Ho preso una cosa Così Che mi piace E poi Lo voglio andare Ad assemblare Perché Io magari Non so Con Con tre armi Ho fatto 300.000 rubli Anche 400.000 rubli In base a Quanto A quanto Siamo riusciti A mettergli sopra Quindi Assemblo Vado sull'R-Sass Vado a comprare Le parti Compro tutto E In questo modo Ho già l'arma E mi costa 34.000 rubli Però contando Che magari Io ci ho messo Questo Advanced Receiver Rosso Che costa Sui 70.000 Mi sembra Quindi 100.000 rubli Mi costa l'arma Più 882 dollari Quindi Io Ho Un'arma Che mi sono preso Gratis Perché magari Mi piace l'arma E quindi La voglio usare Però L'ho trovata Ma l'ho pagata Solo 100.000 rubli Perché Me la sono modata Come volevo io Come mi piace Però Ho venduto Tre armi Che non uso Ma ci ho guadagnato 400.000 rubli Perché l'ho riempita Di mod Quindi Voi avete comunque Un guadagno Di 300.000 rubli E continuate così Io In questo modo Ma anche Grazie Alla Alla Bitcoin Farm Sono arrivati Sono arrivati A questi 28 milioni Però Ad esempio Un Non so Un 10 milioni No Un 14 milioni Io l'ho fatti Solo ed esclusivamente Vendendo le armi In quel modo Gli altri 14 milioni Le ho fatti Vendendo bitcoin Quindi con i bitcoin Ovviamente un po' più veloce Ma Non cambia niente Perché Sì ok Magari in 21 ore Ho fatto 400.000 rubli Di bitcoin Ma io In 30 minuti Di ride Mi sono fatto 400.000 rubli Con armi Per dirvi un po' Com'è tutta la cosa Quindi I bitcoin Io piano piano Me li farmo E quando vedo che costano Tanto Li vendo subito Tutti quanti Quindi niente Siamo arrivati Alla fine di questo video Nel prossimo Vi ricordo sempre Di Di scrivermi sotto Nei commenti Che cosa vorreste vedere Ovviamente un qualcosa Che ci sta Con le cose iniziali Perché poi più avanti Arriveremo a qualcosa Di avanzato Quindi fatemi sapere Magari che cosa Vi interesserebbe Vedere E vediamo Se ci sta Come cosa Vi ricordo Vi ricordo che in descrizione Trovate il link Al discord Il mio discord Personale Al discord Della community E tante altre cose Come facebook Instagram Non so Date un'occhiata Sempre sotto Come in fondo Trovate tutti I miei amici stream Se queste guide Vi stanno Salvando la vita Su Tarkov E vi inizia Iniziate già A capire Come funziona Tutto il meccanismo Vi ricordo Che potete Iscrivervi Se Se vi stanno Veramente piacendo Così Non Non perdete Nessun video Come attivare La campanellina Madonna Sembra un venduto Del cavolo Con questa campanellina Però niente Le notifiche Non arrivo Però se non Volete perdere I video Delle basi Vi consiglio Di attivarla E di iscrivervi Vi ricordo Che ogni lunedì Alle 14 e 30 Escono Dei video Sulle basi E niente Vi ricordo Che nei commenti Sotto Potete Darmi una mano A capire Che cosa portare Nel quinto episodio E niente Nuovamente Spero che queste guide Vi stiano servendo E noi Ci rivediamo In un prossimo video Che sarà La prossima settimana Alla stessa Ciao 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 ciao